Ciao a tutti sono Stefania la ragazza fitness dell'hotel Baia presso il Chielaguna in Sardegna e non voglio raccontarvi la mia giornata ma seguitemi presso le mie attività. La prima sarà risveglio muscolare. Ho voluto fare questa esperienza presso il Chielaguna perché studiando in un'accademia di musico alla Milano mi sembrava una grande opportunità poter lavorare con dei ballerini professionisti come quelli che abbiamo qua e sono molto contenta di poter prendere parte anche nei loro spettacoli. Inoltre volevo conoscere il più possibile gente da varie parti del mondo ed è quello che sto facendo e sto cercando di portare un sorriso nel loro soggiorno qui da noi. È un'esperienza fantastica che consiglio a tutti perché ti completa 360 gradi e quindi se volete entrare a far parte della famiglia For Fun non aspettate e cliccate nel link qua sopra. iscriviti al nostro canale